Inter Bayer Monaco 0 a 2 dopo il capo nel derby arriva un'altra sconfitta per l'Inter di Inzaghi questa volta all'esordio in Champions League mentre il Barcellona batteva il Vittoria Polsen. Amici amici interisti, amici amici di Passione Inter bentornati e benvenuti in questo nuovo episodio dove insieme a voi cercherò di analizzare la partita di ieri sera ma in realtà vorrei dare poco spazio all'analisi della partita di ieri sera perché secondo me potrebbe essere riassunta in poche parole il Bayern è stato troppo troppo superiore all'Inter e invece vorrei collegare due discorsi alla partita di ieri sera ma prima di partire con il contenuto vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento sul mondo Inter. Come dicevo l'analisi della partita iniziamo subito con un riassunto dell'analisi della partita ieri è ovviamente arrivata una sconfitta che anche in normali condizioni onestamente avrei ritenuto accettabile contro questo Bayern Monaco quello che non accetto invece è il modo in cui è arrivata questa sconfitta perché l'Inter è partita male nei primi venti minuti si è di fatto consegnata al Bayern Monaco la tattica di Inzaghi era chiara stiamo bassi per poi ripartire ma questa strategia non ha funzionato anzi sono stati commessi tantissimi errori tecnici e non solo quando l'Inter ha provato a ripartire e nelle poche occasioni in cui siamo riusciti a renderci davvero pericolosi sono state fatte delle scelte sbagliate mi viene in mente per esempio Dzeko al limite dell'area di rigore che avrebbe potuto passare la palla a Mkhitaryan che si sarebbe trovato di fronte a Noyer quindi era un'occasione molto importante per l'Inter ma Dzeko ha tardato il passaggio e in Champions League occasioni del genere non si possono sprecare te ne capitano due tre a partita al massimo contro avversari del Bayern Monaco perciò non le puoi sbagliare allo stesso modo disattenzioni del genere che per chi ci sta seguendo in video sto condividendo non si possono commettere sto ovviamente parlando del l'1-0 del Bayern Monaco con Leroy Sané questo lancio di Kimmich che ha sorpreso sia D'Ambrosio che Dumfries anche se secondo me l'errore più grande di Dumfries che stava marcando Alfonso Davis il quale però era molto lontano avrebbe potuto accorciare questo accorciamento non c'è stato e l'errore di Dumfries non è l'unico neo della sua prestazione ieri sera Dumfries così come Gosens sono stati praticamente nulli sulle fasce possiamo tranquillamente definirli come i peggiori in campo almeno per quanto mi riguarda quando invece sarebbero potuti essere una risorsa davvero importante per l'Inter già alla fine del primo tempo si era capito che da loro due l'Inter non poteva ricevere chissà che e allora la domanda me la sono fatta anche ieri sera alla fine del primo tempo ma me la faccio anche oggi e la faccio anche voi la domanda è Inzaghi poteva cambiarli prima e come se poteva siamo le solite con i cambi tardivi di Inzaghi con la Lazio con il Milan questi cambi che puntualmente arrivano quando arriva il secondo gol dell'avversario e non arrivano mai prima quando in realtà poi servono alla ripresa l'Inter era in effetti ripartita meglio che però più che una reazione a me sembrava quasi un rugito un rugito d'orgoglio che secondo me era destinato a durare poco e così è stato Inzaghi avrebbe dovuto avrebbe potuto anche cambiarli prima soprattutto sulle fasce ieri Darmiana è entrato abbastanza bene secondo me con un Dumfries in serata no Darmiana è superiore a un Dumfries in serata no nell'era dei cinque cambi arrivati a questo punto dopo Lazio e Milan onestamente non mi spiego più questa prudenza di Inzaghi sui cambi perché hai cinque cambi a disposizione puoi cambiare praticamente metà della squadra metà dei giocatori di movimento e non ha più senso questa prudenza li puoi cambiare puoi cambiare una squadra puoi cambiare l'atteggiamento e soprattutto puoi cambiare quei giocatori che palesemente non stanno facendo bene però al di là di tutto questo secondo me il discorso da fare sull'analisi della partita è che il Bayern Monaco andava cento volte più veloce dell'Inter arrivati alla sesta partita stagionare ormai per me la condizione fisica non è accettabile una condizione del genere e c'è da mettere l'errore nella preparazione nessuno dei nerazzurri sembra essere al cento per cento ma neanche vicini al cento per cento a esclusione forse di Lautaro Martinez che anche ieri secondo me ha giocato una buona una buona partita di sacrificio ma mi sembra in palla almeno Lautaro Martinez ha comunque fatto tre gol in campionato è un elemento secondo me più in forma per quanto riguarda l'Inter un altro elemento che ieri mi ha lasciato buone sensazioni è ovviamente André Onana la prestazione la sua prestazione è stata sottolineata dai quotidiani è stato inserito praticamente dalla maggior parte di loro come il migliore in campo almeno tra i migliori in campo nel primo tempo ha parato con sicurezza i tanti tiri che stavano arrivati dal Bayern Monaco addirittura vi riporto una statistica di Opta ve la riporto anche in video André Onana ieri ha effettuato dieci parate eh più di ogni altro portiere dell'Inter in una gara di Champions League dalla stagione duemila e tre duemila e quattro non è stato quindi un esordio abbastanza agevole ma è un esordio che mi ha lasciato tantissime sensazioni positive su André Onana eh ha mostrato grandi cose ma soprattutto ha mostrato carattere ha incitato i compagni quando riprendeva palla era subito reattivo e pronto a far ripartire l'Inter ehm i suoi lanci lunghi anzi sono stati proprio un fattore dell'Inter sono stati tra i pochi elementi che hanno reso pericoloso eh pericolosa la squadra eh di Inzaghi eh ha registrato poi inoltre questo record la differenza poi rispetto a Andanovic si è già vista io almeno e vorrei sapere se anche voi avete avuto questa sensazione eh a me Onana ha dato la sensazione di limitare i danni cosa che non provo da diverso tempo con Andanovic ovviamente c'è da parlare anche dell'errore di Onana che poi sarebbe potuto diventare una papera clamorosa ma per fortuna il palo ha graziato Onana eh in generale nella sua carriera il camerunense ha ci ha già abituato ad alti e bassi anche nella stessa partita ma l'errore di ieri sera si potrebbe secondo me relegare al poco minutaggio finora accumulato da da parte di Andrè un portiere ha bisogno di fiducia e continuità per quello che abbiamo visto ieri sera secondo me Onana se la merita tutta eh per questo motivo non riesco neanche a capire eh la scelta di Inzaghi che ha praticamente già annunciato ieri sera in conferenza stampa eh nel post partita di far giocare Andanovic con il Torino l'alternanza dei portieri non ha mai portato qualcosa di buono benché meno in questo caso e sulla questione portiere voglio concludere questo video con un discorso molto importante e che secondo me è il rischio più grande dell'Inter un rischio più pericoloso del Bayern Monaco e più del Milan perché eh l'Inter in questo inizio di stagione mi è sembrata molto confusa in campo ma anche nelle scelte di Inzaghi eh quasi come se fosse dominata dal caos diciamo così sono già successe diverse cose abbiamo perso un derby abbiamo perso a Roma contro la Lazio abbiamo perso Lukaku per diverso tempo e adesso c'è anche la questione portiere che si aggiunge a tutte le altre mille cose che ci sono in ballo adesso nel mondo inter il rischio in tutto questo marasma secondo me è che l'Inter si accartocci su se stessa senza riuscire poi a ritrovare l'uscita a da questo tunnel in cui l'Inter si è infilata praticamente dalla partita di Lazio in poi a questo punto io mi chiedo dove è finita quella motivazione eh di prendersi una rivincita su Milan sul Milan e su tutti gli altri quella che quella motivazione che in teoria ci abbiamo fantasticato tanto anche noi eh tifosi è nata al fischio finale di Inter Sampdoria tre a zero del dell'anno scorso un una partita che ha ricordiamo c'era ridotto Lautaro in questa maniera qui perché ci sta seguendo da video in lacrime davanti al pubblico e alla curva nord eh dell'Inter questa è una domanda che mi faccio l'Inter in questo momento ha bisogno di serenità di certezze di fare eh di premere il tasto restart perché decidere di cambiare formazione contro il Bayern Monaco per poi rimangiarti tutto subito e rimettere Andanovic rimettere gli elementi che finora non stanno performando perché rimettere in porta Andanovic chi è il titolare in porta dell'Inter il mondo Inter attualmente secondo me è invaso da queste domande a cui però non si ha risposta eppure l'Inter ha bisogno di risposte come dicevo prima ha bisogno di certezze in questo momento non ne abbiamo e questo secondo me è il rischio più grande che l'Inter si infili in questo tunnel e che entri poi nella famosa crisi che i giornali quotidiani non vedono l'ora di di etichettarci quindi adesso verso il Torino premere il tasto restart non ci aspettavamo contro il Bayern Monaco che l'Inter potesse vincere e così è stato abbiamo perso contro la squadra molto più forte di noi come giusto che sia ma adesso ripartiamo ripartiamo dalle certezze mi sai che deve fare chiarezza deve dire chi è il titolare in porta perché l'artenanza in porta fa soltanto casino caos e l'Inter in questo momento non ne ha bisogno detto questo ragazzi questo piccolo discorso su Inter Bayern spero vi sia piaciuto fatemi sapere se siete d'accordo su di me sui tre punti che vi ho presentato l'analisi della partita il fatto che secondo me Onana deve giocare e ovviamente questa motivazione persa che noi ci aspettavamo invece che l'Inter fosse motivata a mille dopo quella scena finale di Inter Samp detto questo se ci stai seguendo da podcast ti lascio un link in descrizione di un episodio caricato sul nostro canale YouTube dove spieghiamo per filo e per segno perché Onana deve giocare al posto di Andano visto che è stata anche una questione che abbiamo toccato in questo video vi ricordo ovviamente del club di passione Inter dove potete entrare nella nostra grandissima community ovviamente abbiamo discusso tanto di Inter Bayern se invece ci stai seguendo da YouTube qui ti lascio l'episodio da cliccare e recuperare